Ciao tenorini ed eccoci qua da Tenore Informatico. In questo video vi faccio vedere come eseguire l'hard reset sul proprio dispositivo della serie Watch 4 Samsung, quindi Smartwatch del marchio Samsung e ovviamente il video vale anche per i modelli successivi a questo. Bene, se per caso non ricordate più il pin di accesso, oppure magari ve lo ricordate ma il dispositivo non ve lo prende più, l'unica maniera è quella di riportarlo alle impostazioni di fabbrica. Per fare questo si usa una combinazione di tasti, bisogna tenere il tasto home e il tasto basso tenuti insieme e premuti fino a quando non si riavvia il dispositivo. All'avvio del dispositivo appare la schermata Samsung Rebooting. Rilasciare solo il tasto basso e premere il tasto sopra tre volte. Appare così la modalità di ripristino, ci sono varie scelte che si possono fare. Premete il tasto home, il tasto questo in alto, più volte e posizionatevi alla voce recovery. A questo punto per entrare in recovery e dare conferma bisogna premere i due tasti, home e quello basso. tenete premuti i tasti, verrete portati così alla schermata di recovery mode. Aspettiamo un pochino. Finalmente siamo sulla schermata del recovery mode. Questa volta però anziché il tasto home in alto bisogna premere il tasto basso per eseguire la scelta. Quindi premete il tasto in basso e andate alla voce wipe data factory reset e confermate con il tasto home in alto, il tasto in basso per andare su factory reset, poi confermare nuovamente con il tasto home. In pratica il tasto home conferma e il tasto in basso fa la scelta. Quindi factory data reset, confermare con home e in questo momento sta avvenendo l'hard reset del vostro watch 4. Una volta fatto dovete premere nuovamente il tasto home per eseguire il riavvio del dispositivo su reboot system now. Bene tenorini siamo arrivati alla fine di questo video. Guardate qua. Hard reset eseguito correttamente. Non chiede l'account to google a differenza del telefono samsung. Semplicemente lo dovete resettare come vi avevo già fatto vedere e poi lo dovete configurare dal vostro dispositivo samsung tramite la connessione via bluetooth. Quindi che dire noi ci vediamo al prossimo video da tenore informatico e vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e iscrivetevi numerosi al mio canale. Ciao a tutti e alla prossima!